Dopo giorni di costante aumento scendono i ricoveri in Abruzzo. Sono 26 in meno rispetto a 24 ore fa quelli in area medica e uno in meno in terapia intensiva. I numeri comunque restano elevati. Nei reparti covid attualmente sono ricoverati 631 pazienti, mentre quelli più gravi che hanno avuto la necessità di ricorrere alla terapia intensiva sono 86. Ancora molto alto il numero dei decessi comunicati dalle ASL rispetto a ieri sono 25. Si tratta di uno degli incrementi più consistenti assieme a quello di 27 registrato giovedì scorso. Per quanto riguarda i nuovi contagi oggi si attestano a 442 grazie alle analisi di 5.458 tamponi molecolari e di 1.848 test antigenici. Il tasso globale di positività è poco superiore al 6 per cento ma considerando soltanto i tamponi molecolari è oltre l'8 per cento. Le località con più casi sono Montesilvano 27, Pescara 26, Roseto degli Abruzzi 26 e Francavilla al Mare 22, 19 i casi all'Aquila, 16 a Chieti e altrettanti a Teramo. A livello provinciale l'incremento più consistente nel Chietino più 140 seguito dal Pescarese più 112, dall'Aquilano più 95 e dal Terramano più 93. Gli attualmente positivi sono 13.107, scendono solo di 9 unità. I guariti sono 42.046 e aumentano di 425. Sul fronte nazionale esprime grande preoccupazione per l'evoluzione della pandemia il CTS che torna a richiedere un innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale e la riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità ma dalle indiscrezioni riportate dall'Ansa non sarebbe stato suggerito al governo un nuovo lockdown.